Allora, salve a tutti ragazzi, sono sempre il vostro X-Men dello Squad 05, scusate per questa periodo di inattività totale, però ragazzi ho avuto problemi e non sapevo appunto cosa portarvi sul canale, perché ho un po' finito le idee. Allora, avevo promesso il Monotype, o meglio la Neslok Challenge su Pokémon Rubino Mega, ma ho cambiato idea, per il semplice fatto che ho registrato già degli episodi, ma ho notato con molto dispiacere che visto che li carico appunto dal cellulare, quest'ultimo ci impiega anni e anni a caricare un singolo video, o meglio li carico sul PC per poi renderizzarli e poi caricarli su YouTube, e tutto questo mi porta a caricare un video di 10 minuti, tipo un giorno ci mette, ma forse anche di più, quindi non è proprio l'ideale signori e mi dispiace davvero tanto. Avevo pensato quindi come alternativa ad un altro Let's Play, magari a voi la scelta, la scelta signori è tra un gioco di Quinta Gen e un Acrom, per Quinta Gen intendo o bianco o nero, o bianco e nero 2. E appunto l'Acrom, signori non so quale, magari me la consigliate voi nei commenti, potete consigliare nuove Acrom, che preferibilmente Acrom non molto trattate, interessanti, e nulla. Queste sono le due scelte, il video finisce qui, signori mi raccomando rispondete nei commenti, è importante, ho bisogno del vostro aiuto e sostegno, e dal vostro X-Metalus 405 è tutto, ciao a tutti ragazzi.